Crescita dei posti di lavoro a tempo indeterminato, più 37,8%, calo del 62,8% invece delle ore di cassa integrazione nei primi sette mesi. Sono alcuni dei dati che emergono dal terzo focus, Ires, sull'economia toscana 2019. Segnali particolarmente positivi arrivano dunque per Arezzo sul piano occupazionale, sicuramente migliori rispetto alla media regionale. Le esportazioni continuano a promettere bene, più 23% nel primo trimestre 2019, spiegano gli autori del focus Marco Batazzi e Franco Bortoletti. Sembra però che il volume di lavoro industriale prestato, unità di lavoro, stia subendo una contrazione significativa a partire dal 2017, con una ripresa accelerata della produttività che tuttavia, dopo forti difficoltà a metà del decennio, dovrebbe raggiungere solo nel 2020 il livello del 2014. A partire dal 2018 anche gli impieghi segnano finalmente una crescita, anche se meno rilevante della crescita dei depositi, soprattutto nel comparto industriale, indicatore dell'esistenza di processi di investimento significativi. I dati incoraggianti però sono controbilanciati dal calo degli occupati ad Arezzo in meno 4,4%. Aumentano i cittadini inattivi tra i 15 e i 64 anni e negli ultimi 10 anni sono saliti del 14,4% e questo è un dato nettamente più alto rispetto alle altre province della Toscana.